con una capacità di approfondimento insolita. Prima però di introdurre la serata, anzi meglio, lascio introdurre la serata, Don Stefano. Prima dicevamo, ma chi è questo qui che introduce? Allora, non sono un esperto di nessuno dei temi di questa scuola di dottrina sociale, sono semplicemente il vicario episcopale che ha in mano, insomma, invece la chiamata testimonianza e territorio, poi lo capiremo solo vivendo. Comunque anche io vi saluto e riprendo il filo delle serate di questa scuola di dottrina sociale. La prima sera il professor Magatti segnalava come fattore di crisi delle democrazie le disuguaglianze in crescita, cioè la crescita delle disuguaglianze. Lo vediamo, drammaticamente, tragicamente, nell'incapacità dell'Europa di fronte all'integrazione e all'accoglienza. Lo vediamo, purtroppo, nell'aumento del divario tra chi è più ricco e chi è più povero. In Italia cresce la povertà. La crisi economica di ritorno, dovuta anche alla guerra in Ucraina e agli anni della pandemia. Il Papa ci chiede di rifiutare la logica dello scarto. Ma come questo non rimane semplicemente uno slogan? Perché si usano molto le frasi del Papa come slogan. Come questo non rimane uno slogan? Stasera parliamo di lavoro. Che risorsa è il lavoro? È il lavoro che include i disabili. Il Papa Francesco parla di ecologia integrale. Ecco, comprende anche l'ecologia integrale per avere una visione che tenga conto delle differenze. Allora, siamo qui per ascoltare e di questo ringraziamo i nostri ospiti del contributo che ci daranno di riflessione, che ci daranno. Grazie. Bene, io riprendo con i ringraziamenti. Invito Paola Cicognani qui di fianco a me. Non so dove sia. Eccoti qua. Ah, sì, sì, sì. E vi chiedo un applauso per Paola Cicognani, che è la responsabile regionale dell'Agenzia per il lavoro. e vi chiedo un applauso e fatelo forte per chi è a distanza. Gabriele Gamberi, che è un Disability Manager della Fondazione Aspi. Il nome della fondazione per un romagnolo è molto complicato, devo dire la verità, però spero di averlo pronunciato bene. Ma devo dire che il cognome di Silvia Stefanovic non è più semplice, ed è la responsabile delle politiche per la disabilità e l'inclusione della CIS nazionale. La ringraziamo anche perché è ancora in sede e questo manifesta in maniera evidente la sua volontà, la sua voglia di esserci, la sua determinazione, la sua responsabilità. Nel corso dell'intervento poi, cioè meglio, dopo il suo intervento, nel corso della serata, si avvicinerà a casa e direi che è anche giusto, visto che ha tre figli e un povero marito che li accudisce, no? Un povero marito? Ringrazio di nuovo. Un povero marito qua? Attenzione, bisogna stare attenti. Buonasera. Ah, ci picchia, no, mi stanno sgridando. Meglio... È stata lei a dire un santo marito, ecco, diciamo così. Va bene? Bene, vi ringrazio di nuovo tutti per essere qui, per aver partecipato. Ringrazio anche la pastorale e mi è piaciuto in questi giorni anche un po' riprendere il percorso che con la pastorale sociale in tanti anni ho potuto fare. Ho potuto declinare la parola lavoro legandola ad alcuni temi concreti. liberandola da tanta retorica che purtroppo circonda parole così importanti. E abbiamo parlato di industria 4.0, abbiamo parlato della formazione permanente dei lavoratori, abbiamo parlato di redistribuzione del reddito attraverso la contrattazione di secondo livello lo scorso anno. Forse c'è un tema che dovremmo, anzi sicuramente c'è un tema che dobbiamo ancora affrontare, molto importante, che riserveremo per i prossimi appuntamenti, il prossimo anno, ed è quello della sicurezza sul lavoro. Ricorre, giusto ieri ricorreva, un anniversario assai importante per la nostra comunità locale, nazionale, ed è la ricorrenza del decesso durante il lavoro di 13 persone a Ravenna, nella motonave Elisabetta Montanari, 13 persone che morirono di asfissia facendo il loro lavoro. Morirono da topi, direbbe, avrebbe detto il cardinal Tonini. Anzi, ha detto. E vorrei però anche ricordare Massimo Fusi, un boscaiolo di 52 anni, deceduto ieri davanti a uno dei suoi quattro figli, mentre gli cadeva addosso un albero. E la nostra comunità, in qualche misura, ha fatto passi in avanti sul tema della sicurezza, ma purtroppo non ci siamo liberati dalla scia di sangue e dolore legata a questo tema. Per cui vi chiedo un momento di silenzio per ricordare tutte le vittime sul lavoro dal 13 marzo dell'87, ma anche prima, per la verità, fino ad oggi. Grazie per questo momento di raccoglimento. Diciamo un applauso liberatorio. perché... Ora veniamo al tema, in qualche misura... Sì. Cioè, Don Franco, però, non ti sento. Sì. Sei persone di Bertinolo. Questo non ne avevo memoria, confesso. e... Eh, lo so. C'erano sei persone della nostra provincia, di una comune vicino a noi, lo dico a Silvia, lo dico a Gabriele. È giusto, assolutamente... Ma c'è una lapide a Bertinolo, che lo ricorda? Sì, dopo andrò... A cerimona... Sì, ieri. Se vuoi, dimmi, dimmi. La McNavy, che era l'impresa... No, l'impresa... Ah, la loro impresa è un'impresa appaltatrice. Sì, sì. Beh, in qualche misura... È un po' duro quel che dico, però è semplice emozionarsi di fronte a eventi del genere. Ma non ci si può limitare a questa emozione passeggera, profonda. Ci si deve emozionare anche per questioni che possono apparire più quotidiane, meno drammatiche, sicuramente, ma sono altrettanto centrali. Perché stasera parleremo delle fatiche di milioni di persone nel nostro Paese. Milioni di... Cioè, milioni di disabili e milioni di familiari di disabili. E sappiamo cosa significa. Ci sono... Non voglio evidenziare solo il lato problematico della vicenda, però... Però sicuramente c'è. E ci sono 937.000 persone iscritte al collocamento mirato presso il centro per l'impiego. Che significa? Significa che ci sono nel nostro Paese un milione di persone quasi che hanno più del 46% di invalidità. E che vogliono lavorare e che cercano lavoro. E che purtroppo molto spesso non lo trovano. Ci sono 500.000 posti potenziali per questi lavoratori. Perché la legge 68 del 99 ha introdotto alcuni meccanismi che hanno portato a questi numeri, a questa possibilità. Solo 360.000 persone sono occupate. 140.000 sono posti vacanti. A me francamente però il dato che è più impressione è la differenza tra chi è occupato, chi cerca lavoro e i posti vacanti. E qui c'è da dire il mondo. Magari cerco di non dilungarmi, però insomma dobbiamo dirlo. Un dato clamoroso. il 26% dei posti di lavoro vacanti è per persone che hanno una bassa scolarità. Al centro per l'impiego ho parlato in questi giorni con una persona che lavora qui nella nostra città il 99% delle persone hanno una bassa scolarità. Quindi capite quanto sia grave il problema. insomma noi dobbiamo occuparci con un criterio anche scientifico a questa materia. Per questo ci siamo affidati ai nostri esperti e per questo lascerei la parola a Silvia Stefanovic in modo da permetterle di parlarci di cosa prevede magari la Convenzione ONU e di che cosa ha stabilito la legge nel nostro paese se ci sono state innovazioni normative negli ultimi tempi. Prego Silvia comincia tu. Ciao buonasera mi sentite? Sì io ho un po' di ritorno però facciamo che non l'ascolto no magari il tecnico che prima me l'ha fatta vedere eccolo ce la sta facendo vedere anche a Gabriele Gamberi che è connesso online la stiamo vedendo quindi ancora buonasera a tutte e tutti allora adesso che vi vediamo ancora di più mi fa molto piacere esserci Cristian mi ha invitato e mi faceva piacere esserci glielo ho detto fin dall'inizio sapevo che sarebbe stata una giornata complicata avrei voluto molto volentieri essere in presenza ma almeno online siamo riusciti ad organizzarla e avrei voluto soprattutto perché io mi occupo di disabilità in CIS nazionale ormai da tanti anni e non solo in CIS faccio parte di questo organismo che è presso la presenza del consiglio che è l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità così come Gabriele Gamberi anche lui ne fa parte e ci troviamo molto spesso a ragionare in maniera tecnica di questi argomenti altro è avere la capacità di fermarsi a ragionare sulle persone che incontriamo eppur ora tentando di farlo ogni giorno sono sempre preziosi l'occasione in cui fermarsi un attimo a ragionare sul senso del proprio lavoro occasioni come queste sicuramente invitano a farlo e questo era anche uno dei motivi per cui mi faceva molto piacere essere coinvolta e garantirvi una presenza io inizierei con uno stimolo in risposta a quello che Christian diceva prima i numeri i numeri che vengono che Christian ha riportato e che un po' vengono spesso rilanciati li ascoltiamo quando ci sono dei convegni che riguardano le persone con disabilità Paola lo dirà certamente meglio di me dopo e l'ascolterò con gran piacere però purtroppo questi numeri che abbiamo ascoltato non ci dicono granché della situazione attuale delle persone con disabilità e del loro inserimento non ci dicono granché perché questo famoso elenco di persone iscritte nelle liste speciali cosiddette nelle liste il collocamento mirato non sempre non in tutte le province non in tutte le regioni sono liste cosiddette pulite cioè che contengono realmente persone disponibili al lavoro troppo spesso sono persone che si sono iscritte anche molti anni fa non necessariamente disponibili al lavoro e quindi rischia di essere un numero che non ci dice molto diciamo i numeri reali sono certamente quelli relativi agli avviamenti e alle assunzioni ma purtroppo ancora una volta noi li sappiamo tramite una relazione al Parlamento che doveva essere a cadenza biennale che ci mette sempre più di due anni per essere emanata ed è ancora ferma al 98 se non sbaglio e stiamo in attesa di nuove relazioni al Parlamento nel 2018 che ho detto il 98 però purtroppo non ho il 2018 all'indietro ho sbagliato la sottrazione 2018 e diciamo abbiamo anche all'interno dell'osservatorio nazionale chiesto con forza la conoscenza dei dati più reali che ci permettessero di orientare le politiche e si è creata una nuova struttura presso INSE che è la banca dati per il collocamento mirato che dovrebbe fornirci dati di 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 tre anni ma attualizzati ogni giorno se vogliamo ma di questa banca dati che pure si è costituita ancora non sappiamo molto sicuramente non sappiamo le sostanze e quindi oggi abbiamo una fortissima simmetria rispetto ai numeri e alle possibilità di inserimento i dati rispetto ai posti scoperti alle scoperture cosiddette sono quelli che nascono dalle comunicazioni obbligatorie verso il ministro del lavoro diciamo in parte sono un po' più utili però comunque difficilmente paragonabili questo solo per dire che già abbiamo un problema a sapere l'entità della misura io sento una voce interrompetemi solo se c'è qualche domanda o sollecitazione ok e quindi anche solo capire Silvia Silvia scusa Silvia si parla lentamente turbo sulla linea ok quindi anche solo capire la portata del fenomeno è oggi un problema non la faccio ancora lunga ma solo per dire che conoscere un fenomeno è la base per poter agire e su questo tema abbiamo delle lacune informative a livello nazionale molto molto forti che cos'è che invece abbiamo come punto di partenza di cui siamo certi non state vedendo le strade forse invece è utile farle vedere io continuo a parlare eccole adesso vedo che le vedete ok invece che cos'è che sul diciamo qual è il versante su cui abbiamo fatto passi da giganti il recepimento della normativa internazionale nello specifico della convenzione ONU che è diventata legge nazionale ratificata in Italia e ancora prima di essa ci arriviamo tra un momento di alcuni pilastri fondamentali a partire dalla famosa legge 68 del 99 che danno delle certezze in terma di diritto al lavoro delle persone con disabilità parto dalla convenzione ONU e parto dalla convenzione ONU per tanti motivi tra cui il fatto che le convenzioni ratificate in Italia quindi diventate legge italiana con gente in Italia sono quelle che ci permettono di collocarci nell'alveo dei diritti umani quindi non solo delle tutele del lavoro o di normazione potrei dire non solo nemmeno di antidiscriminazione siamo in un alveo molto più grande che è quello dei diritti umani la convenzione ONU al suo interno all'articolo 27 dice proprio che gli stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri segnatamente mette in rilievo un aspetto il diritto di potersi mantenere che vuol dire avere l'autonomia economica che è una delle componenti essenziali per la creazione dell'identità adulta mi vorrebbe da dire della possibilità di operare delle scelte in modo adulto ci sono delle sottolineature che non riguardano molto il nostro paese ad esempio il fatto che il lavoro debba essere liberamente scelto accettato in un ambiente lavorativo aperto perché in altri paesi europei non in Italia osserviamo un fenomeno che è quello dei laboratori protetti cioè situazioni in cui le persone con disabilità diciamo lavorano ma in un ambiente che non può essere definito prettamente lavorativo noi abbiamo la straordinaria esperienza della cooperazione di tipo B oltre che di molti altri tipi che consentono in qualche maniera di realizzare dei luoghi che sono di lavoro ma che hanno delle modalità particolari che consentono anche persone con disabilità particolarmente accentuata con problemi fallimenti lavorativi di poter realizzare un'attività lavorativa prima della ratifica della convenzione ONU in Italia avevamo già appunto la famosa legge 68 che dice che una volta accertata l'invalidità che sia un'invalidità civile dal lavoro oppure non vedenti e sordomoto è un'invalidità da guerra con gradi diversi se l'invalidità è superiore a certe soglie si ha diritto al collocamento mirato cioè essenzialmente a forme di collocamento particolari che tengono conto della situazione della persona con disabilità e possono attivare una serie di strumenti e di accompagnamento oltre a questo cioè il concetto di collocamento mirato è proprio la persona giusta al posto giusto quindi non è solo un collocamento obbligatorio ma è un collocamento che tenta di mettere in campo una strumentazione aggiuntiva per consentire alle persone di avere una giusta valorizzazione delle proprie abilità e di essere collocata nel posto giusto oltre a questo concetto che la legge 68 già nel 99 come dire strutturava nel 99 si modificano gli obblighi in carico alle aziende e si definisce che le aziende con più di 15 dipendenti fino a 35 devono assumere obbligatoriamente un lavoratore disabile quelle da 36 a 52 e sopra il 7% dei lavoratori subordinati in un primo momento fino al 2018 era solo per le nuove assunzioni che le aziende 15-35 assumevano i disabili oggi anche questo è una modifica che è stata eliminata era una norma transitoria quindi la legge 68 istituisce come dire definisce organizza il collocamento mirato con queste modalità specifiche e definisce un obbligo in capo alle aziende del settore privato in realtà anche del settore pubblico con alcune diversificazioni che cosa prevedeva un incentivo dato tramite il fondo nazionale che però fino al 2015 aveva dato numerosi problemi e adesso vi racconto come è stato trasformato e poi delle possibilità attraverso i fondi regionali di prevedere ulteriori strumenti ora sui fondi regionali lascio a chi sa più di me ci fermiamo un attimo sul fondo nazionale perché nel 2015 col 151 è stato profondamente riformato ne parlo con particolare piacere perché il decreto 151 del 2015 uno di quegli attuativi del tanto vituperato Jobs Act in realtà ha fatto una riforma quella che abbiamo chiamato una manutenzione straordinaria della legge 68 che ha consentito una importante modificazione di alcune pensure tanto che da quel momento in poi c'è il 2016 in poi abbiamo visto una crescita continua fino a prima della pandemia sia degli avviamenti che delle assunzioni delle persone con disabilità in Italia per cui anche qua sfatiamo un altro mito è vero che ci sono criticità importanti della cui numerosità non abbiamo ancora piena contezza ma dobbiamo avere presente che dal 2016 in poi il numero di avviamenti e assunzioni è stato costantemente in crescita e questo è un dato di tutto interesse ci dice anche che laddove si lavora per modificare i percorsi di finanziamento di organizzazioni che non funzionano abbiamo anche la possibilità di arrivare insieme a raggiungere l'obiettivo noi come CISL abbiamo fortemente lavorato al 151 con la cooperazione anche di tanta parte dell'associazionismo delle persone con disabilità della CISL e delle cagli quindi sono risultati come dire che rivendichiamo anche con un certo orgoglio che cosa prevede il fondo nazionale ancora oggi in vigore che laddove il fondo sia capiente qui si apre un altro capitolo al momento dell'assunzione di una persona con disabilità c'è il 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi per ogni persona che abbia più del 79% di invalidità il 35% della retribuzione lorda per 36 mesi per chi ha un'invalidità tra il 67 e il 79 e il 70% per un periodo prolungato di 60 mesi per chi ha un'invalidità psichica di natura psichica o intellettiva con misure più basse superiore al 45 questo significa che se il diritto al collocamento mirato c'è dal 46% ha sopra quindi per le disabilità più gravi sopra il 67 c'è anche il 65 che come abbiamo visto viene calcolato sulla retribuzione mensile con una particolare attenzione e una particolare durata per quelle psichiche che sono quelle più difficili da essere inserite arriviamo ora a un concetto fondamentale chi è la persona con disabilità abbiamo visto che ai sensi della legge 68 è persona con disabilità quella che ha una certa percentuale sopra il 46% eccetera in realtà la convenzione ONU ratificata con la legge 18 del 2009 2019 ci dice che persona con disabilità non è più non la dobbiamo non dobbiamo più considerare una persona che fotografata nella sua dimensione come già la legge 104 dell'handicap ci diceva per cui era una persona con le sue caratteristiche con le sue abilità con le sue disabilità che venivano fotografate anche magari con strumentazione molto sofisticata come l'ICF ma comunque fotografata diciamo nella sua interezza la convenzione ONU ci dice cancellate questo concetto di fotografia e immaginate la disabilità come un concetto di relazione come un concetto dinamico come un concetto in evoluzione cioè il rapporto è la somma è il frutto tra una persona che abbia delle menomazioni fisiche mentali intellettuali sensoriali purché di lunga durata e l'ambiente circostante quando questa persona nel relazionarsi con l'ambiente circostante incontra barriere comportamentali o ambientali quella persona non gode della sua piena possibilità di inclusione non gode dei suoi pieni diritti umani non gode di una condizione di parità con gli altri quella diventa una persona con disabilità quindi non lo è per le sue caratteristiche lo è perché le sue caratteristiche in relazione con l'ambiente non le consentono di essere pienamente inclusa e pienamente valorizzata nei suoi diritti il che significa che in un mondo ipoteticamente perfetto in cui non ci fossero barriere architettoniche una persona con mobilità ridotta ad esempio non sarebbe una persona con disabilità ad esempio quindi possiamo certamente lavorare sulla persona perché su ogni persona possiamo lavorare in termini di lavoro in termini di occupabilità ad esempio ma non dobbiamo mai dimenticare che se hanno un concetto di relazione dobbiamo sempre tenere presente anche l'ambiente circostante rimuovendoci dice la convenzione le barriere che vengono incontrate e introducendo elementi di facilitazione alcuni come dire spunti interessanti di riflessione sono che la convenzione ONU ci dice insieme a questo concetto di disabilità ci mettiamo tutte le patologie purché di lunga durata per cui tutte le persone che hanno una patologia non sono pienamente inclusione sono insensi della convenzione di persone con disabilità e addirittura ci dice la convenzione non ci interessa una percentuale minima non ci interessa come ci diceva la 68 che quella percentuale deve essere raggiunta per essere chiamata la persona con disabilità per avere diritto la tutela della convenzione è per tutte le persone che si trovano in questa condizione è irrilevante la percentuale che resta valida evidentemente per la legge 68 e per le altre leggi che continuano a prevederla finché non verranno rifermate ma la convenzione ONU ratificata con legge 18 ci chiede di superare di fare un passo in avanti e di aprire il ragionamento questo significa che i lavoratori e le lavoratrici interessate dalla convenzione ONU sono una platea molto più ampia di quelli inseriti con il collocamento minato o comunque riconosciuti dalla legge 68 in particolare quindi tutti i lavoratori che sono riconosciuti persone con disabilità o con gravi patologie di lunga durata hanno diritto a una serie di azioni anche a tutela della loro discriminazione tra cui una in particolare mi fa piacere raccontarvela perché sono convinta che sia un po' il grimaldello nei luoghi di lavoro per consentire una piena inclusione che sono gli accomodamenti ragionevoli uno dei temi su cui più ho studiato e su cui più mi sono interessata in questi ultimi anni gli accomodamenti ragionevoli definiti dal decreto antidiscriminazione in Italia che è il decreto 216 sono quelle modifiche adattamenti necessari e appropriati quindi individualizzati sulla singola persona che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare quindi sono obbligati ad adottare purché non abbiano un costo eccessivo al fine di garantire la parità di trattamento quindi accomodamento ragione quindi ogni persona con disabilità senza la convenzione ONU ha diritto a una modifica della situazione lavorativa che sia individualizzata appropriata ed efficace a rimuovere lo svantaggio che può essere rivolta a tutta la sua vita lavorativa all'accesso allo svolgimento addirittura la possibilità di avere una promozione può riguardare la sistemazione dei locali le attrezzature su questo Gabriele Gang avrà molto da raccontare immagino ma anche e per i sindacalisti questo è un tema centrale i ritmi di lavoro la ripetizione dei compiti nonché la formazione addirittura le modifiche dell'inquadramento l'unico limite che viene posto a questo diritto in capo alle persone con disabilità è che non abbiano un costo un onere sproporzionato calcolato in base a quanto l'azienda è grande quante risorse finanziarie ha e quanto può accedere a ulteriori finanziamenti che proprio le regioni più virtuose tra cui l'Emilia Romagna hanno messo in campo attenzione perché il rifiuto di introdurre un accomodamento ragionevole già porta nell'alveo del contrasto alle discriminazioni è quindi uno strumento molto importante per le persone con disabilità o con patologie di lunga durata che vogliono tutelarsi nel mondo del lavoro perché solo citare solo fare riferimento al sistema degli accomodamenti ragionevoli è un modo per dire se io che ho questa condizione di disabilità non sono pienamente incluso il datore di lavoro non può non fare nulla ora cosa può fare può fare tante cose diverse la cosa importante è che il datore di lavoro non può non fare nulla se non fa nulla e il lavoratore assistito magari dal proprio referente sindacale invoca gli accomodamenti ragionevoli anche in giudizio tendenzialmente stiamo vedendo che le cause vengono vinte per cui i datori di lavoro cominciano a essere molto interessati a questo tema tra i tanti aspetti che mi farebbe piacere raccontarvi sugli accomodamenti ragionevoli c'è questo lavoro che abbiamo fatto nel 2019 proprio con ASPI insieme al Comitato Fibromiaggi Uniti e alla Fondazione ISAL in cui abbiamo chiesto a 1147 donne con fibromialgia una serie di informazioni sugli accomodamenti ragionevoli abbiamo pubblicato il rapporto di ricerca una cosa che vi voglio dire di questo rapporto di ricerca è che abbiamo chiesto loro ritieni che le difficoltà incontrate nel lavoro si sarebbero potute risolvere almeno in parte applicando nell'ambiente di lavoro un accomodamento già sperimentato nella tua vita privata e il 70% di loro ci ha detto sì che significa che non è detto che l'accomodamento ragionevole di per sé sia un investimento particolarmente costoso impegnativo avveneristico di riforma dell'organizzazione del lavoro o di introduzione di costosi tecnologie assistive può essere anche un semplice strumento già utilizzato nella vita privata la cosa fondamentale è coinvolgere con la partecipazione della persona stessa e provare a capire qual è la soluzione migliore purché efficace a rimuovere lo svantaggio giusto per darci un'idea e mi sto avviando alla conclusione se no Christian mi inizia a guardare male gli accomodamenti ragionevoli possono riguardare tutti gli aspetti della vita lavorativa dall'accessibilità all'organizzazione del lavoro a strumenti come lo smart working segno certamente l'orario di lavoro le pari opportunità gli strumenti di welfare contrattuale e c'è stata una sentenza della Porta di Cassazione del 2021 che ci è avvenuta molto incontro definendo che il datore di lavoro deve fare uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa non solo non può fare niente dicevamo ma deve trovare una soluzione organizzativa con uno sforzo lo può fare attraverso lo sommimento degli obblighi di legge lo può fare attraverso la contrattazione collettiva lo può fare attraverso l'azione sindacale e qui mi avvio diciamo agli ultimi due concetti che vi volevo proporre uno è quello dell'accessibilità universale cioè laddove un'azienda voglia mettere una persona con disabilità nelle condizioni di essere pienamente inclusa e quindi proporrà uno o più accomodamenti ragionevoli per la persona perché possa essere pienamente inclusa non dovrà mai dimenticare che l'ottica che ci propone la convenzione ONU non è di soluzione del problema per la persona e basta ma è sempre quella di avere un'idea di accessibilità universale cioè che ogni intervento che verrà fatto all'interno di quell'azienda dovrà tenere presente anche quante altre persone potranno beneficiare delle strumentazioni che hai messo in atto se hai fatto dei passi in avanti per fare in modo che una persona che in futuro si trovasse nelle stesse condizioni possa avere ulteriori strumenti e non trovarsi nelle difficoltà oggi incontrate e come fare in generale che le persone con le varie disabilità che si possono incontrare nell'azienda teniamo presente che con l'avanzamento dell'età ad esempio pensionabile la stessa popolazione aziendale più avanti con l'età può avere una serie di difficoltà quindi come tutte queste persone possono beneficiare degli accomodamenti ragionevoli che sta inserendo chiudo con questo concetto sul quale però al quale tengo molto che è il concetto di abilismo che è molto collegato a questa idea di accessibilità universale siamo una società che sempre più sta cedendo il passo alla diffusione di questo concetto di abilismo che in qualche maniera può richiamare ai vicini razzismo o sessismo cioè l'idea che esista una normalità e che possiamo immaginare dei luoghi e quindi anche dei lavori e quindi anche dei processi e quindi anche delle situazioni e quindi anche delle comunicazioni che siano fatte per una dimensione standard diamo per scontato che esista un corpo sempre tra virgolette abile cioè che quell'abile sia la normalità quando la convenzione ONU ci ha detto considerate che proprio è nella relazione tra la persona e l'ambiente la questione della disabilità quindi dare per scontato sempre che tutti possano sentire che tutti possano parlare che tutti possano entrare che quindi una volta che ho fatto che ho creato una situazione di normalità in fondo ho fatto il mio lavoro ho creato il mio servizio ho aperto la mia opportunità è un modo per essere fondamentalmente non inclusivi e dobbiamo fare molta attenzione su questo perché rischiamo di non renderci conto che troppe volte diamo per scontato una forma di abilismo che è sottesa dal nostro stesso modo di pensare e in modo di agire per cui se la convenzione ONU una cosa ci può insegnare è proprio quella che dobbiamo stare attenti non solo alle persone con le loro condizioni ma anche a come loro sono in condizioni di rilazionarsi in un ambiente che non deve essere standard e non deve essere come dire la persona preoccuparsi di omologarsi a una situazione standard ma piuttosto un mondo che faccia dei passi possibilmente da gigante verso un'idea di accessibilità universale e qui mi fermerei grazie un bel applauso qui in sala per te abbiamo affrontato la disabilità della nostra linea ma la tua passione l'ha ampiamente superata e se alle nove e mezza parli ancora con questa passione del tema insomma qualcosa vuol dire e ora è il momento di parlare dei centri per l'impiego i centri per l'impiego Paola non sono ben visti non so se lo sapevi lo sapevi ne eri consapevo eppure svolgono un ruolo importante nell'intervista che ha fatto alla persona che ci lavora sono emerse cose interessanti anche che esulano dal lavoro dal suo ruolo dal ruolo di chi magari deve intervistare la persona che viene a offrirsi e attenzione nella nostra provincia ogni mese 12-13 persone si iscrivono vuol dire che 12-13 famiglie hanno un problema provano a trovare lavoro e quindi sono numeri assolutamente importanti ed alcune di queste persone l'impiegata che sta di fronte deve dire che non possono lavorare che non sono in grado di lavorare ci vuole quindi perché non purtroppo la disabilità è troppo grave non bisogna essere concreti non tutti sono in grado di impiegarsi c'è il peso anche di chi mette la propria faccia di fronte a un utente senza avere un sistema che lo sorregge perché il vero problema è lavorare assieme per l'inclusione non ci può essere un eroe un'eroina che risolve il problema di questo o quell'altro si parla di aziende in cui è sicuro che il tirocinio col disabile andrà male e si sa che sarà così si parla di aziende in cui invece il tirocinio andrà bene perché è solo di tirocinio si vuole vivere tirocinio dopo tirocinio guai assunzione però questa è la realtà che conosciamo via tu che cosa ci racconti del centro per l'impiego del suo ruolo delle sue potenzialità di come possa migliorare il servizio allora se tocca a me smentire tutte le cose che tutte le sere ascolto in televisione ogni tanto mi viene da pensare che insomma ci sia qualcuno che abbia anche interesse che la pubblica amministrazione non funzioni per cui anziché io fare la sindacalista dei dipendenti che collaborano con me che non mi tocca in nessun modo provo a fare parlare tre numeri e poi però entro anche nel merito di alcune questioni che sono state dette i tre numeri sono che mediamente in Emilia Romagna ogni anno fra le 5.500 le 6.000 persone con disabilità si iscrivono al collocamento mirato vi sto rappresentando il livello regionale di persone che si iscrivono al collocamento mirato ma il secondo numero altrettanto importante che vi vorrei raccontare che abbiamo finalmente chiuso i dati del 2022 e il 67,7% delle persone che si sono iscritte hanno trovato un posto di lavoro quindi insomma possiamo dire non male ma bene cioè il 70% delle persone quasi iscritte hanno trovato un posto di lavoro quindi com'è che è successa questa cosa proviamo a raccontarla così la legge 68 che è una legge molto all'avanguardia se facciamo un benchmark fra la legge italiana e le altre legislazioni europee io considero ancora oggi la legge 68 una legge che ha forti contenuti di innovazione rispetto al diritto al lavoro per tutte le persone disabili primo punto la legge parla sempre di diritto al lavoro per tutti i disabili che hanno il 40 meno il 46% di disabilità come condizione di ingresso ma la legge si fonda su tre capisaldi fondamentali i tre capisaldi sono da una parte gli uffici di collocamento mirato quindi i servizi e proviamo a dire che cosa significa dopo dall'altra parte i vincoli per le aziende e quelli che vi sono stati fatti vedere prima cioè le percentuali che le aziende devono rispettare come cosiddette quote d'obbligo e il terzo punto e il terzo pilastro caposaldo di questa norma sono gli incentivi quindi vincoli regole politiche attive attraverso i servizi pubblici e privati accreditati e dall'altra parte gli incentivi queste tre dimensioni coniugate abbastanza bene fanno sì che in Emilia-Romagna il 91% lo dico sempre a testa alta perché difendo il lavoro minuzioso che deve essere fatta inseguire tutte le singole aziende che hanno degli obblighi il 91% delle aziende in Emilia-Romagna sono ottemperanti vuol dire che hanno assunto persone con disabilità vuol dire che 40.000 posti di lavoro sono questi numeri a disposizione della della regione Emilia-Romagna in chiave di numeri che emergono da quello che si chiama il prospetti informativo ogni anno le aziende devono comunicare agli uffici i propri obblighi di assunzione i propri obblighi di assunzione sono dati da una percentuale matematica se sono aziende sopra il 100 addetti sono 7 addetti se sono 200 sono 14 si va avanti così e si calcola poi ci sono alcune diciamo alcune tipologie contrattuali che non entrano nel computo ma adesso non vorrei essere troppo tecnica quindi tutti gli anni si fa una fotografia degli obblighi assunzionali e noi abbiamo il 91% ripeto delle aziende che sono ottemperanti che significa che hanno rispettato esattamente tutti gli obblighi che la legge gli propone vuol dire che va tutto bene? no vuol dire che abbiamo due problemi ancora da risolvere il primo che 40.000 non bastano diciamo purtroppo il numero delle persone che ogni anno si iscrive al collocamento mirato pretenderebbe numeri più alti e sono pochissime veramente pochissime le aziende che sono disponibili ad assumere disabili se non hanno l'obbligo cioè la famosa responsabilità sociale delle aziende tanto raccontata va bene ne abbiamo trovate dieci diciamo fra tutte quelle importantissime per carità di Dio ma non sono quelle che spostano questi equilibri il secondo punto di maggiore sofferenza che io avverto come la più grande sofferenza proprio dal punto di vista professionale occupandomi di questa materia da tantissimi anni ha a che fare con la disabilità intellettiva e psichica i disabili fisici trovano agevolmente lavoro in questa regione anche se hanno basse qualifiche i disabili intellettivi e psichici devono combattere prima di tutto con gli stereotipi le paure le preoccupazioni delle aziende quindi sono proprio le persone più difficili da collocare dentro le aziende vi racconto un'esperienza di successo che ha appena funzionato dentro un'azienda sofisticatissima della meccanica bolognese sono stati inseriti due ragazzi autistici ad altissimo funzionamento e mi ha chiamato il capo del personale per congratularsi con noi e mi ha detto dottoressa solo che alla sera dobbiamo ricordarci di farli uscire perché loro stanno dentro la macchina non lavorano con la macchina non prendono la distanza dal computer per cui se alla sera noi non gli diciamo si chiude dobbiamo andare a casa loro restano dentro questa dimensione vi ho fatto questo esempio per dirvi che cosa che in realtà noi parliamo di disabilità ma la disabilità è fatta di infinite differenze al proprio interno ognuno ha una propria storia la settimana scorsa ho dovuto firmare una deroga per un'azienda perché la mamma di questo ragazzo mi ha telefonato disperata perché il suo punto fondamentale era stare in quel posto ancora con un tirocino nonostante l'avesse ripetuto tantissime volte ma il suo punto di abilità era occuparsi del cane del datore di lavoro ora ho raccontato questa cosa per dire che cosa che noi dobbiamo aprire una stagione dentro la quale l'incontro con il lavoro non può essere solo produttività questo è il grande limite della legge 68 la legge 68 ha immaginato un incontro con il lavoro per tutti come se il lavoro fosse per tutti una condizione di autonomia economica reddituale no ci sono persone che hanno diritto a incontrare il lavoro hanno diritto a incontrare un luogo organizzato hanno diritto di incontrare una socialità colleghi e tutto questo e tutto quello che significa nell'essere inseriti nella società ma che forse alla produttività di un lavoro standard non arriveranno mai e che facciamo verso queste persone va garantita una forma di inclusione sociale se non c'è l'autonomia della produttività l'inclusione sociale però va garantita e quindi bisogna darsi regole che consentano l'incontro con il lavoro anche attraverso l'inclusione sociale e non necessariamente attraverso la produttività del lavoro standard remunerato ultimissima cosa e poi la smetto questa regione ha fatto una legge che è un po' al contrario dei provvedimenti ultimi degli ultimi governi che si chiama legge regionale 14 fatta nel 2015 è una legge che dice che le difficoltà delle persone fragili e vulnerabili si affrontano intanto perché la fragilità e la vulnerabilità può riguardare tanti di noi in momenti della vita non è necessariamente una diagnosi clinica di quel momento ma poi la dimensione di fragilità e vulnerabilità delle persone ha a che fare con diverse sfaccettature non c'è solo una dimensione di difficoltà della persona col lavoro ma c'è anche una difficoltà sociale di natura sociale c'è anche una difficoltà di natura sanitaria quindi la nostra legge che cosa ha fatto ha detto bisogna fare delle equip multiprofessionali composte dagli operatori sociali sanitari e del lavoro per sostenere queste persone verso l'inserimento lavorativo perché i problemi complessi si affrontano avendo il coraggio di dire che non basta una sola competenza professionale quella di un operatore del collocamento mirato ma bisogna valersi anche di un assistente sociale oppure di un medico se serve questa è la forza di quella legge esattamente l'opposto di quello che hanno fatto con il reddito di cittadinanza e tutto ciò che ne è derivato separando separando una parte al lavoro e una parte al sociale va bene scusate la diciamo digressione di pochi secondi ultimissima cosa e poi veramente la smetto perché 20 minuti devono essere 20 minuti noi abbiamo speso nell'ultimo anno e mezzo 1.800.000 euro a livello regionale di incentivi facendo che cosa uno abbiamo fatto incentivi all'assunzione delle aziende mettendo soldi sul tempo determinato lo Stato come vi ho detto prima la dottoressa Silvia Stefanovic interviene solo sulle assunzioni a tempo indeterminato noi abbiamo detto vi diamo i soldi anche per il tempo determinato a condizione che alla fine dei 12 mesi li assumiate a tempo indeterminato quindi il primo anno noi ti consentiamo di assumerlo a tempo determinato se lo trasformi alla fine del primo anno a tempo indeterminato il primo anno te lo paga sostanzialmente la regione Emilia Romagna con questo incentivo ci siamo messi in modo complementare con gli incentivi che lo Stato ha progettato per la riduzione del costo del lavoro la seconda cosa che abbiamo fatto è stata pagare gli accomodamenti ragionevoli dei posti di lavoro è faticosissimo è una fatica è una fatica bestiale le aziende non amano tanto che si vada a casa loro che si faccia la diagnosi delle cose che non funzionano è veramente non una passeggiata di salute però con un po' di fatica e un po' di determinazione questa misura sta cominciando a prendere piede ultimissima cosa e poi mi taccio siamo riusciti altresì a fare due start up di imprese di disabili psichici totalmente finanziati da noi una che si chiama Scacco Matto e una che si chiama Buono da Matti la seconda ve la consiglio a tutti è una pasticceria nata a Bologna che si chiama per l'appunto Buono da Matti che io lo trovo una cosa meravigliosa della forza di questi ragazzi che hanno deciso insieme a un signore pasticcere che è andato in pensione di aprire insieme a loro una pasticceria uno straordinario esempio di solidarietà di questo signore pasticcere che se no sarebbe stato per i fatti suoi in pensione e questi ragazzi che hanno imparato a fare i pasticceri l'ultimissima cosa davvero davvero l'ultima l'ultima lo prometto le aziende hanno uno strano modo per eludere la legge 68 quando vogliono e quindi chiedo sempre a tutti il massimo dell'attenzione perché chiedono l'alta specializzazione cioè improvvisamente i disabili devono essere laureati saper parlare il cinese benissimo degli informatici non so bene che cos'altro ok la norma è una scappatoia che gli consente cioè poter chiedere l'alta specializzazione purtroppo è una contraddizione delle attuali norme con le quali facciamo i conti ecco questa scappatoia secondo me non può più essere degna dei nostri tempi è un meccanismo elusivo degli obblighi di assunzione della legge 68 per quanto noi ancora continuiamo insomma a perseguitarli che però qualcuno insomma ancora oggi ci prova grazie è l'ora del sondaggio adesso vorrei sapere dal pubblico chi ha mai sentito prima di stasera la parola disability manager alzi la mano chi lo conosceva una due tre quattro cinque cinque mani timide si sono alzate la maggioranza delle persone non conosce questa figura quindi abbiamo fatto bene Gabriele ad invitarti perché avrai vita facile dovrai spiegare che cosa fa un disability manager allora non voglio non voglio non voglio non voglio Cristian metterti in difficoltà ma io in realtà non sono un disability manager io lavoro nell'ambito del disability management e quindi sulla gestione della disabilità però certo leggermente diverso insomma poi dopo magari ne approfitto se può interessare dirò qualcosa se ti vuoi interessare dirò qualcosa che su questo va bene posso condividere allora posso condividere portata a casa la figurazza sì sì puoi condividere vuoi il tuo compito è anche quello di raccontarci qualche storia concreta positiva e negativa di fare un po' il cattivo della serata perché esperienze virtuose perché ci si impegna ci sono ci sono è vero è vero ci sono però forse è anche colpa nostra insomma insomma facci raccontaci il problema nel suo sviluppo pratico per condividere sì no ma però non vedo la aspetta i contenuti schermo schermo intero un attimo adesso vediamo e tu lo vedi? e tu lo vedi? no al momento no che tu ce l'hai è questa stiamo guardando la regia no ma va bene questa attesa crea tensione giusto così aumentano le aspettative è per me è per me di attuaggio tranquillo 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 ci stanno facendo questo comitato ecco qua ecco qua hai visto? ce l'abbiamo fatta non lo stanno vedendo no aspetta manca ancora allora sul mio schermo non vorrei essere Paolo in questo momento eh no no io vi cioè se volete vi come cacchio no io lo vedo un attimo perché Paolo non si vede quello che io vedo sul monitor nel maxi schermo stai dicendo un attimo lo saluti eh beh giustamente stai dicendo un attimo un attimo un attimo tranquillo conosci una barzelletta se intanto vuoi era qui tranquillo tranquillo è tutto a posto adesso è tutto molto sembra tutto ordinario ma in realtà ricordiamoci che ci siamo collegati con Roma Bologna tutto straordinario no ma è sempre complicato se volete intanto inizio così se vuoi iniziare però va bene va bene no vabbè volevo c'ho c'ho un po' di ritorno dell'audio ma comunque c'è però c'ho l'audio della sala il mio ok infatti adesso sento bene allora no intanto due parole su Aspi dopo dopo a consento a parlare di disability manager però due parole di Aspi Aspi è una fondazione che opera dal 1980 è nata Bologna come diceva anche la Paola questo è un territorio territorio regionale tutto direi molto molto diverso da da molti altri territori del nostro paese i dati che ci ha presentato sono sicuramente imbarazzanti se li confrontiamo su altri territori Aspi nasce nel 1980 perché è una congiunzione un po' astrale diciamo così tra un impegno di un'azienda una multinazionale l'IBM tra due istituzioni la regione il comune di Bologna e un istituto che in quegli anni aveva perso la sua caratteristica di essere un istituto ospitante ragazzi con disabilità perché se vi ricordate nel 77 ci fu la legge di inclusione nella scuola di tutti nella scuola pubblica dei ragazzi con disabilità quindi questo istituto perse la caratteristica era un istituto per ciechi a quel punto regione comune IBM e l'istituto decisero di far partire dei corsi di informatica in assoluto primi sicuramente in Europa non so oltre sfornando dei programmatori di elaboratori elettronici all'epoca erano i grandi mind frame quindi calcolatori enormi una fatica pazzesca per imparare non solo i linguaggi di codice ma anche non c'erano tecnologie assistive quindi non c'erano aiuti come ci possono essere adesso sintesi vocali e altre cose per cui i ragazzi fecero effettivamente molto fatica questa attività poi si allargò a Roma con la fondazione dagli occhi con disabili motori molto gravi stessa cosa Milano poi con i sordi e dalle scuole che Aspi avviò uscirono un migliaio di ragazzi che andarono a lavorare tutti in quest'ambito mirato quindi di fatto la fondazione Aspi all'epoca un'associazione fece un'attività anticipatoria della legge 68 perché tutti i ragazzi andarono veramente a lavorare al posto giusto e nel territorio di provenienza l'altra cosa veramente incredibile non mi sentite più? ma fin dove siete arrivati ok ha perso niente ok no vi stavo dicendo quando ci fu questa esperienza si creò questa associazione questa associazione era un'associazione di imprese quindi erano le imprese che cominciarono ad assumere questi ragazzi non vedenti disabili motori eccetera nel 2002 questa associazione di imprese è diventata fondazione di imprese è un'organizzazione che opera nell'ambito di un principio di organizzazione sociale che tra l'altro è un principio molto antico vi vorrei far vedere questa seconda slide c'è un tal Buonaventura da Bagno Reggio perché perché ho mostrato questa 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 slide perché questo la formulazione di questo principio cioè di organizzazione sociale lo troviamo nella scuola di pensiero francescano e quindi uno degli autori importanti fu proprio Buonaventura da Bagno Reggio siamo nella seconda metà del 1200 il problema che gli studiosi dell'epoca compreso appunto Buonaventura si posero che si posero fu come si fa ad organizzare la vita di una città di una società nascevano in quel momento no composta di categorie diverse no di soggetti artigiani mercanti contadini via discorrendo senza che nessuno possa imporre potesse imporre in maniera autoritaria il proprio volere sugli altri questa è una sfida che dato il contesto storico era effettivamente di importanza enorme no non si poteva immaginare un pensiero di questo genere una visione di questo genere ecco per rispondere a questa sfida il modello di ordine sociale fu quello in cui i tre vertici in cui si componeva la società in cui si compone la società e cioè il vertice dell'istituzione all'epoca c'erano i municipi nell'età moderna i comuni le regioni in qualche modo tutti gli enti pubblici e istituzionali centri per l'impiego l'agenzia Emilia Romagna lavoro poi la comunità degli affari quella che raggruppa tutti coloro che sono portatori di interesse di natura principalmente economica infine il mondo della società civile organizzata che allora poi lo vediamo anche adesso era rappresentato soprattutto dalle confraternite quelle nate in età intera di Toscana all'inizio che corrispondono a quelli che oggi noi chiamiamo enti del terzo settore ecco questi tre corpi devono interagire fra di loro allora tutta questa premessa per dire che cos'è Aspi cioè Aspi è fondamentalmente un'organizzazione che fa questo quello che vedete lì fa sussidiarietà circolare ho raccontato quando diciamo lo spunto non si parlava non si chiamava sussidiarietà circolare all'epoca ma era fondamentalmente questo cioè un ente del terzo settore oggi possiamo dire che un ente del terzo settore che ha all'interno il mercato perché i nostri soci sono imprese sono aziende e quello che è la nostra attività le nostre attività incidono in settori in cui lo Stato fa fatica a fornire risposta ai cittadini questo perché perché i nostri soci in parte ci finanziano questo tipo di attività poi è chiaro che non ci basta per cui dobbiamo lavorare come tutti gli altri a trovare i lavori però questa parte che per assurdo se noi fossimo solamente finanziati dai soci noi faremmo solamente questo tipo di attività cioè di sussidiarietà laddove lo Stato con le varie organizzazioni che ha non trova non riesce a coprire i bisogni dei cittadini e allora qual è il nostro scopo il nostro scopo è questo di portare innanzitutto il concetto che le tecnologie digitali favoriscono l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità fin dagli anni 80 appunto che abbiamo cercato di utilizzare le tecnologie nell'ambito della formazione quindi i nostri ambiti di applicazione sono il lavoro la scuola la partecipazione sociale letta anziana l'accessibilità e la cultura dell'inclusione stasera cerchiamo di fare cultura ed è un po' quello che Paola nell'ultimo per l'ultima riflessione che ha fatto ci ha riferito un meccanismo un po' perverso diciamo così molto seguito da alcune aziende che non hanno la cultura dell'inclusione ma hanno la cultura della furbizia per evitare l'inclusione però ecco devo dire io non voglio essere diciamo schierato né con né a favore né contro scusate ma non ho molta voce poi soprattutto a quest'ora dopo aver parlato praticamente tutti il giorno perché purtroppo ormai la nostra vita lavorativa spesso è appunto davanti a un video e a parlare nelle cosiddette call allora le chiavi per l'inclusione quali sono allora accordarsi sui termini innanzitutto è fondamentale e li abbiamo visti la Silvia ce l'ha detto praticamente ce l'ha detto la disabilità ce l'ha detto che la disabilità è una conseguenza dello stato di salute di una persona che incontra un contesto sfavorevole come si accomoda questo contesto sfavorevole per permettere diciamo alla persona che ha questo stato di salute di svolgere alla base con tutti i diritti la Paola l'ha ricordato poco fa di tutti sono gli accomodamenti ragionevoli è difficile individuare gli accomodamenti ragionevoli questo sicuramente qual è il percorso però inserimento integrazione inclusione allora anche qui molte volte noi utilizziamo delle parole malamente e allora cercavo se mi è concesso di entrare nel merito di queste tre parole comunque anticipando questo che per quello che noi facciamo verso le aziende di cercare di mantenere in equilibrio mantenendo un continuo monitoraggio alcuni aspetti alcuni sono per la disabilità diretta cioè i dipendenti fondamentalmente le risorse di cui l'azienda usa e cosa mettiamo in equilibrio scusatemi ma chiederei aiuto ma sono qui da solo prendevo un po' d'acqua se mi aspettate 30 secondi vado a prendere un bicchiere d'acqua scusatemi sono di nuovo con voi allora tre ambiti che ok queste tre variabili sono le capacità e le performance delle persone con disabilità cioè i lavoratori capacità e performance vuole dire fondamentalmente questo tecnicamente le capacità sono le abilità della persona senza aiuti che noi possiamo potenziare attraverso tutte le cose che possiamo inserire agevolazioni facilitazioni tecnologie cioè tutti gli accomodamenti ragionevoli i tempi l'organizzazione del lavoro eccetera quindi accomodamenti ragionevoli è assolutamente uno di questi di queste variabili l'altra variabile è l'ambito e l'organizzazione lavorativa questi tre contesti devono essere adeguati fra di loro è in equilibrio se non c'è equilibrio quello che diceva la Silvia cioè si va verso un concetto di discriminazione o da un lato o dall'altro e purtroppo cosa succede succede che l'azienda e il lavoratore spesso si ritrovano davanti a un tribunale e molte volte le norme vengono fatte purtroppo ahimè dalle diciamo dalle dalle da quello che emerge da queste situazioni che vanno in tribunale la disabilità indiretta la disabilità indiretta è ciò che oh scusate ma non riesco proprio no mi dispiace perché capisco che non è proprio è un periodo così che ho sempre la tosse l'altra diciamo l'altro aspetto che deve gestire l'azienda è la disabilità indiretta cioè la clientela allora per la pubblica amministrazione sappiamo che la clientela sono i cittadini e quindi i cittadini devono avere dei servizi accessibili fruibili deve essere chiara la comunicazione e il brand sociale anche per la pubblica amministrazione è importante garantire questa visione di produttività sappiamo benissimo che la pubblica amministrazione spesso è stata diciamo oggetto di di particolare diciamo criticità no? sono stati fatti non lo so dei riferimenti molto cattivi verso la pubblica amministrazione non so come fare Cristian voglio fare proviamo dai proviamo un attimo le fasi le tre parole no? inserimento integrazione inclusione allora inserimento è il momento iniziale è il momento in cui la persona con disabilità il candidato diciamo a un lavoro entra nell'azienda inserimento è come è scritto sulla slide è per la volontà di qualcuno essere collocato in un gruppo che è il gruppo aziendale dei dipendenti delle risorse per affermare un diritto di uguaglianza in forza di un movimento culturale o di una legge e qui ci scontriamo con il discorso la legge è la legge 68 ovviamente il movimento culturale è quello che è un po' citavano sia la Silvia sia la Paola cioè di una particolare attenzione a questo concetto di diversity equity e inclusion che hanno le aziende poi certe volte non lo dimostrano poi nella pratica ma però qui guardiamo la persona la persona inserendosi in un'azienda cerca di superare la separatezza dal contesto fino a un momento prima di entrare in azienda la persona è separata dal contesto deve imparare alcune regole di comportamento è impegnata in un'attività le interazioni tra la persona che entra in un'azienda e i suoi colleghi e l'azienda sono possibili solo per iniziative di qualcuno molte volte non è la persona stessa ma questa è la parola inserimento e noi la troviamo inserimento in tutte le leggi è anche ad esempio nella definizione del disability manager nella pubblica amministrazione colui che o colei che dovrebbe essere disability manager è chiamato responsabile dell'inserimento lavorativo ma intendiamoci sui termini perché capire i termini vuol dire anche accordarci fra di noi inserimento questa è la prima fase la seconda poi dopo magari entro anche nel merito di quelli che sono gli accomodamenti ragionevoli è l'aspetto dell'integrazione integrazione vuol dire siamo in una nicchia sensoriale precisa mi piace chiamarlo così cioè la persona entra nella prima fase ma siamo ancora in questa fase all'interno di un ufficio tendenzialmente è una piccola un piccolo contesto sensoriale perché ci si sente e ci si vede molto individuato molto preciso questa fase vuol dire che permette alla persona al nuovo dipendente di questa azienda essere con gli altri per un bisogno di farne parte essere accettato dal contesto accettare le regole le attività diventano più complesse ma soprattutto c'è scambio interattivo adattarsi ed adattare l'integrazione vuol dire adattamento reciproco sia l'azienda sia il lavoratore con disabilità allora io volevo dire una cosa qui prima di continuare guardate i numeri sono giusti ecco i che dice la Paola sono perfetti c'è molto però rientro nei nei primi mesi dove la persona con disabilità entra in un'azienda in questa fase qui cioè nel reciproco adattamento che si spezza questo legame e la persona torna a casa cioè abbiamo un dato almeno questo è il dato che ricordava la Silvia cioè il report della legge 68 nazionale che ci diceva fino al 2018 che il 50% non arrivava all'anno di di lavoro cioè dopo l'avviamento e questo è un grosso problema e forse c'è anche da noi in regione di riuscire a seguire cioè ad esempio le agenzie per il lavoro quelle accreditate il loro mestiere è mandare a lavorare un lavoratore nell'azienda ma poi non lo seguono più non interessa più hanno già fatto il loro mestiere se questa persona una settimana dopo il giorno dopo un anno dopo va via loro non lo registrano nemmeno questo dato ecco questo è il dato che andrebbe migliorato questa è una parte importantissima se non si riesce a fare in modo che il datore di lavoro e il candidato e il dipendente a questo punto non 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 avviano questo scambio quindi non si adattano questo è il momento in cui interviene anche il finanziamento eventuale di accomodamenti ragionevoli diceva giustamente la Paola è una fatica le aziende fanno fatica a fare entrare diciamo questa funzione di capire di capire come sono fatti per riuscire a migliorare certo ma è questo il vero nodo perché non è possibile non è possibile che il 50% degli avviamenti poi rientri ad essere iscritto è mancanza di cultura da parte delle aziende è mancanza anche nostra che non riusciamo a dare un servizio alle imprese far capire che una cultura dell'inclusione sarebbe la cosa più importante l'ultimo passaggio è l'inclusione no penultimo l'inclusione è in una avviene in una realtà che va oltre l'orizzonte sensoriale cioè il dipendente con disabilità non ha più una nicchia precisa ma viene è conosciuto parte è parte con gli altri anche sconosciuti no collabora sossedi magari di altre città comincia a rapportarsi con la clientela se è un'azienda che ha questo tipo di scopo quindi essere riconosciuti dal contesto senza confini stabili quindi confini proprio spaziali acquisire un ruolo comprensibile anche chi è lontano fisicamente anche a chi è lontano fisicamente comprendere le regole di appartenenza ampia le attività diventano lavoro che vale anche per gli sconosciuti le interazioni sono reciproche e non fondate sulla compassione questa è l'inclusione questa andrebbe valutato per ogni percorso di inserimento di una persona con disabilità se si riesce ad arrivare qui arrivare qui vuol dire far capire all'impresa che c'è una cultura che va presa va accolta va perseguita non è facile giustamente non è facile l'ultimo passaggio è l'appartenenza la parte questa è un passaggio che forse lo ricordate Andrea Canevaro no peragogista che inventò la peragogia speciale proprio nel nostro territorio quindi è una figura è stata una figura celebre in tutta Italia lui parlava di appartenenza aperta e accogliente per forza propria cioè qui l'attore è il dipendente la persona con disabilità che è consapevole del legame e del riconoscimento da parte del gruppo una cosa incredibile a questo livello è che il contesto ha bisogno della presenza per mantenere un equilibrio succede in certe aziende che ti dicono ah io ho assunto questa persona questa signora questo signore ma ha cambiato la vita interna cioè ma ha portato ricchezza poi magari non è che produca ma senza di lui senza di lui non saprei come fare no? ecco molte volte succede che nelle aziende soprattutto piccole coinvolgimenti così empatici così accoglienti proprio portano una una valutazione dell'inserimento di una persona con disabilità come ricchezza questa parola ricchezza io molte volte quando incontro poi le imprese che mi chiedono una delle prime domande che mi fanno è ma davvero se io assumo delle persone con disabilità la mia azienda si arricchisce si arricchisce pensando ai soldi cioè a maggior profitto e questo in parte è vero perché molte ricerche soprattutto americane considerano questo tipo di approccio cioè l'approccio alla diversità è un approccio molto facilitante per l'impresa avere persone che lavorano non siamo più nel periodo del tellurismo dove tutte le persone erano uguali perché erano nella catena di montaggio dovevano fare quel pezzettino nella catena e basta avere la diversità è fondamentale in questo momento per chi sa apprezzarla per chi sa apprezzarla vuol dire anche combattere combattere una certo tipo di filosofia di certo tipo di politica che dice che siamo tutti uguali non è un bel vero niente questa cosa questa affermazione non è corretta siamo tutti diversi dobbiamo avere tutti pari opportunità senza meriti senza pensare già subito al merito come nell'ultimo attribuzione di un nome a un ministero fondamentale si è tolto il pubblico e si è aggiunto il meritorio è fondamentale riuscire a difendere questi valori il valore della ricchezza della diversità è fondamentale l'altro elemento mi scuso e poi veramente finisco è quello che anticipava la Silvia è vero la legge 68 tutela le persone che hanno un certo riconoscimento di certificazione di invalidità ricordo che la certificazione di invalidità è degli anni 60 tanto per dire come siamo avanzati su questo però guardate in azienda ci sono situazioni di presenza i cosiddetti disabili le disabilità invisibili non sono persone con disabilità che non si vedono sono persone con disabilità che comunque hanno una disabilità anche molte volte visibile però sono invisibili da un punto di vista di tutela noi non ci non finiremo mai di dire almeno all'interno dell'osservatorio nazionale continuiamo a ricordarcelo fra di noi che la legge tutela il 46% però la convenzione onu ricorda che una persona con una malattia duratura di varia natura provenienza eccetera se incontra un ambiente un contesto sfavorevole gli deve essere obbligatoriamente dato l'accomodamento ragionevole per superare il problema non ci hanno ancora accolto questa nostra richiesta speriamo che i decreti attuativi non lo so è una speranza vana probabilmente si mettano anche a lavorare su questo argomento che è un argomento fondamentale prima la Silvia parlava di fibromialgia ma ci sono altre malattie l'endometriosi ci sono malattie il dolore cronico il dolore cronico è la cosa che colpisce maggiormente i dipendenti anche nelle assenze di lavoro cioè è la causa maggiore di assenza detto questo sono a vostra disposizione non ho presentato dei casi ma se ci sono delle richieste sono a vostra disposizione scusatemi del corso quanto tempo abbiamo per lasciare spazio al dibattito dieci minuti dieci minuti pochissimo allora vi invito a fare domande se qualcuno di voi vuole dire la sua vuole raccontare la sua esperienza ha notato discrepanze tra la sua esperienza e quello che viene raccontato oppure concordanze sì sì forse magari sì va va no sicuramente ho sentito si sente cosa vuol dire si sente non sentite non sentite non so per quale mi sento sì allora ho sentito relazioni interessanti parole giuste parole belle come diciamo su questo tema penso molto difficile però alcuni dubbi alcune cose innanzitutto volevo chiedere esiste esiste la figura del tutor quando la la persona disabile viene entra nell'azienda viene assunto ha un tutor che lo deve seguire lo deve accompagnare lo deve no ah mi sembra questa una cosa un po' che mi lascia un po' perplesso e poi chiedevo ma prima di mettere in atto tutto questo meccanismo esiste un preliminare una condizione di incontri preliminari per preparare tutta questa rete di supporto che è fondamentale che include il direttore dell'impresa insomma il responsabile dell'impresa include la famiglia perché anche la famiglia si deve sentire il responsabile di questo spesso di questo giovane disabile che entra nel lavoro che include i servizi sociosanitari e qui c'è la dottoressa Cimatti di cui vorrei sentire anche la sua opinione perché è una persona stimata che ha seguito per tanti anni la disabilità infantile adulta insomma soprattutto infantile e quindi conosce bene anche questi temi penso e quindi una rete che possa aiutare preliminarmente a rendersi conto qual è la situazione in generale compreso il fatto cioè tenendo conto che abbiamo di fronte alcune persone con disagio psichico è veramente difficile insomma ci sono tante categorie di disagio psichico e quindi non è facile insomma istruire un percorso e quindi chiedo semplicemente questo ecco grazie altri interventi quello che ecco sta per arrivare quello che voleva fare domande no volevo chiedere io ho alcuni amici con delle particolari disabilità che così non nascondono il fatto che per loro è meglio di fatto rimanere a casa dal mondo del lavoro piuttosto che andare a lavorare perché fra reddito di cittadinanza pensioni integrazioni varie sussidi vari comuni eccetera eccetera alla fine della fiera è meglio rimanere a casa tutto questo a discapito del fatto che il lavoro come diceva lei non è solo reddito è socialità è incontro con gli altri è aprirsi al mondo è aprirsi alle relazioni ecco quindi qui c'è qualcosa che non torna però perché di fatto se economicamente a qualcuno conviene rimanere a casa i conti non tornano io non sto mettendo discussione di cittadinanza non è questo l'argomento di discussione di questa sera però cioè le forme di sussidio non so devono essere proporzionate probabilmente non so dare una risposta a questa cosa però di fatto bisogna andare oltre questo problema qui perché non può essere insomma così facciamo rispondere i nostri ospiti Silvia ti sto scrivendo tu mi senti fammi il seno con la testa ok bene io adesso mi sento ok allora brevissimamente vabbè cambiamo il giro via Paola parti tu va bene allora sulla sulla prima domanda non è previsto come per gli apprendisti per dire che c'è obbligatoriamente un tutor aziendale dentro l'azienda per le persone con disabilità tutto questo non è previsto però noi lo facciamo in Emilia-Romagna mettiamo a disposizione le risorse che vengono dal fondo regionale per la disabilità e paghiamo fino a 400 ore di tutoraggio all'anno verso persone che vengono dalle cooperative sociali piuttosto che dagli enti di formazione da diversi mondi che hanno competenze e che fanno questa operazione di accompagnamento dentro il primo anno di inserimento lavorativo ok quindi garantiamo un tutoraggio diciamo durante il primo anno che è un anno cruciale la fine però di questa risposta mi consente di arrivare velocemente alla seconda esistono quelli che io chiamo i surfisti delle norme che cosa vuol dire i surfisti delle norme che non avendo viene un po' dalla letteratura americana si chiama il paradosso del surfista non avendo il legislatore italiano purtroppo da tanti anni coordinato le norme fra di loro è vero essendoci soprattutto per le figure con basse competenze redditi bassi è spesso vero che è possibile costruire un equilibrio di maggior favore soprattutto se si mescola un po' di naspi un po' di rapporto di lavoro la segno di invalidità che è una condizione sacrosantemente permanente per la persona l'assegno di accompagnamento tutte queste cose se si prova un po' come ho appena chiamato a fare il surf fra le norme delle volte è più virgolette conveniente per le persone davvero con molte virgolette anziché avere un rapporto di lavoro continuativo c'è qualcosa che non va sì sono le norme che non sono state coordinate fra di loro io lo penso da molto tempo faccio un esempio che non c'entra niente ma è tecnicamente dimostrato che è più conveniente per una persona lavorare in agricoltura 151 giornate e avere l'indenità di disoccupazione speciale che lavorarne 225 a tempo indeterminato perché direte voi è perché mille anni fa adesso mille no ma 50 sì in agricoltura diciamo per molte zone del paese era l'unico modo per accedere alla previdenza e quindi la previdenza era collegata alle giornate c'entra qualcosa col mondo di oggi no forse sempre meno ma le norme non le hanno cambiate più allora lo dico perché ci sarebbe prima di continuare questa immensa ricorsa che tutte le volte ognuno deve fare la riforma delle riforme ci sarebbe tanto bisogno invece di fare in modo che le norme funzionino perché oggi non essendo coordinate al proprio interno sono foriere di diseguaglianze anche se vogliono produrre cose positive io di questa cosa non mi stanco mai di dirla perché mi piacerebbe vivere in un paese che prima di parlare di una riforma uno mi dicesse almeno una volta nella vita che cosa non ha funzionato di quello che c'è e quindi ha senso cambiarlo io di proclami dentro il quale si fa finta di cambiare tutto perché nulla cambi dopo 28 anni che mi occupo di politica e del lavoro sono un pochino stanco grazie Gabriele a te la parola ma io volevo solamente aggiungere questo il discorso della della manutenzione di un percorso di inserimento integrazione inclusione è la parte fondamentale di un percorso individualizzato non si fa sempre non si fa sempre proprio per i motivi un po' di preoccupazione delle aziende le aziende molte volte pensano di saper fare per i fatti loro e in questo sbagliano in questo caso la figura del disability manager potrebbe essere d'aiuto allora due parole solo sul disability manager non deve essere la persona sola al comando però deve essere incaricata dal top dell'azienda deve essere conosciuta e riconosciuta come autorevolezza da tutta l'impresa perché se il disability manager di fatto è un coordinatore dei percorsi di inserimento se il disability manager ha bisogno del responsabile della sicurezza piuttosto che del medico del lavoro questi devono scattare e andarci se no non è ecco questo succede nelle grandi aziende nelle piccole aziende questa cosa succede poche volte perché sono piccole considerano che e spesso pensano di avvalersi di consulenze esterne tenete conto che il disability manager se non conosce molto bene l'azienda fallisce il suo compito fallisce perché non conosce le relazioni le interazioni fra le varie aree dell'azienda quindi ecco noi come osservatorio non voglio rubare la parola alla Silvia ma noi come osservatorio avevamo pensato più a un luogo a un accordo per le grandi aziende a un accordo sindacale un accordo aziendale paritetico e bilaterale perché le rappresentanze sociali all'interno delle aziende hanno una funzione fondamentale molte volte fanno del danno all'inclusione allora si devono prendere e chiarire esattamente che la funzione non è fare una funzione assistenziale ma una funzione professionale però tendenzialmente secondo noi è una figura una organizzazione molto importante nelle grandi aziende nelle piccole aziende è difficile fare un accordo aziendale paritetico e bilaterale ok Tito a te l'onere di chiudere non sente non vi ho sentito Silvia senti vai Silvia vai Silvia no mi rendo conto che è tardi volevo solo rilanciare il tema che già proprio una battuta ho tanto ritorno se è possibile toglierlo volevo rilanciare il tema che già Paola Cicognano aveva lanciato e che mi avviso è interessante anche nell'ottica di persone con disabilità che percepiscono sussidi che è quello dell'operosità produttiva cioè esiste questa dimensione che sono persone che sono a bassa capacità di produttività diciamo vera e propria che però possono dare un contributo al diciamo al proprio paese in termini generali e queste sono persone che tendenzialmente possono godere di alcune forme di sussidio ma comunque c'è un valore aggiunto nel fatto che siano inseriti lavorativamente io sono assolutamente d'accordo che questo è un settore sul quale è necessario fare un ragionamento specifico perché è proprio il contrario di quello che dicevo all'inizio parlando della convenzione ONU cioè c'è un'attenzione in Europa sul fatto di non ghettizzare le persone nei laboratori protetti ed è vero ed è una cosa di cui in Italia come dire non abbiamo questo tipo di problema ma contemporaneamente invece è necessario fare una valutazione delle persone che comunque non sono in grado di entrare nell'ambiente di lavoro aperto su questo c'è un'esperienza molto interessante su di Venezia Giulia ad esempio che ha permesso di occupare queste persone nella cura dei beni comuni per cui non è la sostituzione della cooperazione sociale che continua ad avere le proprie convenzioni col pubblico gestire la propria dimensione ma ci sono dei valori aggiunti ad esempio l'economia circolare l'utilizzo degli alberi tagliati per fare la cartellonistica per i parchi pubblici oppure una forma di tenuta aperta e anche illustrazione delle caratteristiche quindi in qualche maniera accompagnamento turistico dei parchi pubblici cioè tutta una serie di ruoli che non esistono già e che permetterebbero di valorizzare dei beni pubblici attraverso l'utilizzo di persone che non sono pienamente produttive ma non sono pienamente improduttive allora un ragionamento come questo che mi pare ben sinnessi sulle due domande cioè sulla necessità di un tutoraggio ancora maggiormente forte in questo caso e la necessità di consentire un equilibrio tra la percezione dei sussidi e invece la capacità di essere operosi direi che sono due che sono dei ragionamenti che meritano essere aperti e forse una regione come l'Emilia Romagna matura per farlo purtroppo non sono tutte così cioè diciamo vi serve la consapevolezza di essere una regione molto all'avanguardia sia sui tassi di inserimento sia su tutta una serie di misure di sostegno nonché di legislazione regionale dedicata a questi temi andatene fieri e in qualche maniera speriamo che nell'ottica anche di scambio di mainstream questo tipo di esperienze tra le regioni più virtuose possano diffondersi sempre di più ok concludiamo concludo con una riflessione molto semplice questa sera abbiamo appreso tante nozioni forse abbiamo maturato uno sguardo nuovo su un tema veramente complesso secondo me abbiamo il compito di spiegare alla collettività i contenuti che abbiamo raccolto probabilmente non ricorderemo il cento anzi sicuramente non ricorderemo il cento per cento di quello che abbiamo sentito ma quello che ci ha colpito raccontiamolo diffondiamolo perché si vince assieme o non si vince grazie buonanotte il prossimo incontro grazie Silvia grazie Gabriele grazie Paola grazie a voi il prossimo incontro sarà martedì 21 marzo e parleremo di una pace giusta un tema altrettanto complicato se non di più grazie di nuovo grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi